In premio abbiamo 20 kg di pasta artigianale trafilata a bronzo prodotta da compagnieri a qualità. Abbiamo un weekend, due notti, in una bellissima struttura del Cilento per Talasso. Chi vince? No, 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 la giuria, il piacere di essere parte della giuria. Per la giuria provvederà il presidente della compagnia della qualità a voi a provvedere io vorrei solo presentare un po' la giuria. Michele Mezza, giornalista Rai, astronomo, uno dei fondatori dell'associazione Oltre il Giardino, che è l'associazione che ha ideato non si è accompagnata tra giuria, ma ne ha i progetti. E tutta un'altra serie di progetti, non ne parlo ora, ci trovate sulla pagina Facebook Oltre il Giardino e lì vi aggiorneremo su tutte le cose. Michele Birabella, di cui credo che non avete bisogno di presentazioni, quindi diciamo. Passo avanti il Giovanni Oliva che è stato segregato.